1908, Henry Ford lancia sul mercato la Ford T, la prima auto accessibile a tutti, che garantisce mobilità a milioni di persone. Una vera rivoluzione. Il successo della Ford T è dato dal prezzo, ma anche dalla qualità. In pochi anni più del 50% dei veicoli strada sono Model T. Oggi Ford rinnova la sfida, rendere l'innovazione tecnologica fruibile da tutti. Democratizing Technology. Su tutta la gamma vengono introdotte soluzioni innovative, generalmente presenti soltanto su modelli di segmento superiore. Tecnologie non accessibili a tutti, fino ad oggi. Le tecnologie usate nei sommergibili per localizzare oggetti in movimento e nei paracadute con apertura automatica vengono adottate da Ford per aumentare la sicurezza e prendere le distanze. Con l'Active Park Assist, il Bliss e l'Active City Stop. Una piccola telecamera digitale nel parabrezza visualizza lo spazio antistante l'auto e con l'iBeam anche i fari diventano archivi. Ed è attualmente in sviluppo il SYNC per la gestione con riconoscimento vocale di tutti i dispositivi elettronici a bordo. Ma com'è possibile inserire strumenti così tecnologici anche su vetture a basso costo? Creando automobili adatte a tutti i mercati grazie alla condivisione di piattaforme a livello globale e alle ingenti economie di scala generate. Democratizing Technology. Una filosofia produttiva innovativa. Un'idea rivoluzionaria che promette di cambiare il mercato globale e rendere la tecnologia alla portata e al servizio di tutti.